Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settionale d'approfondimento della città di Vallefoglia. Come di consueto, prima di iniziare, vi ricordo i nostri contatti. Trovate qua in sovraimpressione la mail di redazione vallefoglia-rossinitv.it e il numero WhatsApp al quale potete inviarci le vostre segnalazioni. Vi ricordo come sempre che potete inviarci messaggi di testo, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp, foto e video. Iniziamo subito con la prima notizia di questo Magazine, perché iniziamo affrontando subito il tanto discusso tema delle biodigestore. Questa volta, a parlarci di una possibile realizzazione di questo tipo di impianto a Talacchio, è stato direttamente il presidente della provincia di Peserubino, Giuseppe Paolini, che ci ha parlato delle sue riflessioni a riguardo. Ma la provincia di Peserubino serve a un impianto di biogestione perché? Perché non è solo una mia considerazione, ma anche con l'incontro che abbiamo fatto con Lega Ambiente, in cui è stato evidenziato i benefici che porterebbe da un punto di vista di inquinamento un impianto del genere. Ecco, dicevo, dietro questo bisogna sempre considerare che un grado di civiltà di un popolo si vede anche dal fine vita dei rifiuti. Io credo che un biodigestore nella nostra provincia, oltre a produrre del gas metano e delle concime, possa in qualche modo eliminare l'inquinamento che noi produciamo ogni anno con i camion lungo l'autostrada per andare a portare i nostri rifiuti al nord. I nostri rifiuti al nord che fanno la ricchezza delle regioni o delle città, delle province dove noi li portiamo. Basta pensare che un biodigestore in provincia di Peserubino permetterebbe un risparmio secco di un milione di euro, che naturalmente andrebbe a beneficio delle utenze finali che avrebbero una riduzione non da poco e non di poco della Tari. È stato comunque un argomento, l'ho ancora molto discusso, a Vallefoglia si è anche creata un'associazione che hanno proprio esposto il loro pensiero, che è quello del no al biodigestore. Secondo lei le chiedo se più, per magari una informazione che a volte viene in maniera non proprio chiara su questo tipo di impianto e quindi magari e poi crea confusione anche nella gente. Ma io credo che tutte le persone abbiano diritto a chiedere dei chiarimenti, chiedere anche come è fatto l'impianto eccetera. Per questo e per quello che è competenza della provincia noi siamo completamente a disposizione anche con l'Ata per dire le cose come stanno ed essere il più trasparenti possibili nel percorso che si fa. Noi qui abbiamo una richiesta, un progetto che è stato presentato, stiamo valutando e faremo tutte le valutazioni che vanno dal via, tutte le valutazioni del caso anche da un punto di vista di impatto ambientale eccetera eccetera. Dopodiché se ci sono i presupposti per farlo, cosa che io reputo che ci siano, non c'è nessun problema a dare l'autorizzazione. Naturale che con la gente si deve parlare, si deve spiegare perché io credo che la gente se fosse informata e se non fosse magari delle informazioni fatte così diciamo tra virgolette a spizziche bocconi, leggi una cosa ne leggi un'altra, io credo che la gente non avrebbe timore, non avrebbe paura di un impianto del genere, credo che i timori crollerebbero immediatamente. Io vengo da una cultura, una formazione ambientalista, vengo da Isola del Piano e sono stato uno dei soci fondatori di una cooperativa che ha iniziato a fare il biologico nel 1972, per cui reputo e credo di essere attento alle questioni ambientali però allo stesso tempo debbo essere aperto a tutte le soluzioni che oggi la tecnologia mi pone perché credo che la cosa più assurda che ci sia siano le discariche. Le discariche o andare a interrare come capita in alcuni casi, l'abbiamo visto nella terra dei fuochi, ad interrare i rifiuti sottoterra che lasceremo un'eredità incredibile ai nostri nipoti, veramente un'eredità avvelenata. E a Vallefoglia è stata ed è ancora tanta la rabbia dei commercianti che a causa delle nuove disposizioni del nuovo DPCM devono restare chiusi nello weekend nei centri commerciali. Per combattere questa situazione si è tenuta una riunione anche con la parte amministrativa, il Siena Cucchielli e la consigliera regionale Michela Vitri per parlare di questo fatto. I commercianti di Vallefoglia si sono riuniti questa mattina qua al centro commerciale Le Cento Vettrine assieme alla consigliera regionale Michela Vitri, a quale ha partecipato poi anche il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Cucchielli, perché le ultime normative, gli ultimi DPCM, le passagge da zona zalla a zona arancione ha costretto le attività denominate appunto centri commerciali qua a Vallefoglia a rimanere chiusi nel weekend, i 15 giorni di sabato e domenica. Una chiusura appunto per la denominazione centro commerciale nonostante le attività come appunto questa qua alle mie spalle dove vedete anche i commercianti sono completamente aperte, entrambe con una propria entrata ed una propria uscita. Un incubo nell'incubo. Noi abbiamo avuto la notizia il venerdì sera, dieci giorni fa mi sembra, e il giorno dopo abbiamo dovuto tenere le serrande chiusa. Cioè un negozio come il mio che ha fattura tutto e punta molto sul Natale, lavoriamo un anno intero per il Natale, avere una chiusura del genere, creare concorrenza sleale perché i nostri clienti a questo punto vengono spinti e ovviamente perché devono comunque comprare il tempo solo il sabato e la domenica lavoriamo tutti, di conseguenza diventa una perdita per me, una perdita di clientela e una perdita economica di incasso in quel momento. Siamo sempre più fiduciosi che si possa risolvere. Ho organizzato apposta questo incontro chiamando tutti e quattro i centri commerciali che sono stati penalizzati. Noi possiamo lavorare da sport, ci siamo fatti in quattro per inventarci sempre ogni weekend cose nuove, in aperitivo a tema o via dicendo, ma facciamo quello che possiamo fare al massimo, più di così non si può fare se facciamo fatica. Qua c'è un caso direi anomalo rispetto a tutto il resto del territorio regionale. A Vallefogli abbiamo sei centri commerciali, molto simili tra loro, di questi quattro devono rimanere chiusi per le norme previste dal DPCM perché considerati centri commerciali, ovvero le attività, quasi 100 attività di genere diverso rimangono chiuse il sabato e la domenica perché hanno la licenza da centro commerciale, mentre gli altri due possono lavorare ed essere aperti regolarmente, a prescindere appunto dal genere. Il problema è che ancora ad oggi in regione non è stata fatta una modifica alla normativa regionale per cui non vengono distinti parchi e centri commerciali. È indispensabile invece fare questo distingo e fare in modo che chi si trova non in una galleria chiusa come possono essere i perrossini e i percop, ma in un parco commerciale in cui i negozi hanno l'ingresso all'aperto indipendente e quindi sono equiparabili a quelli di un centro storico, di una piazza, possano lavorare. Ora in regione, dopo 15 giorni non avendo avuto ancora una risposta chiara dal Ministero, farò in modo che sia lo stesso assessore regionali alle attività produttive, Mirko Carloni, e quindi anche tutto il Consiglio ad impegnarsi a capire questa problematica e a fare in modo che al più presto si possa avere una distinzione chiara tra centri commerciali e parchi commerciali e che non dipenda da una semplice licenza, quindi da una distinzione amministrativa, burocratica. Questi nostri quattro centri commerciali sono quattro centri commerciali aperti, quindi non hanno un problema di assembramento. Quindi o il Consiglio regionale modifica e interpreta la norma che i centri commerciali aperti come i nostri possono essere aperti il sabato e la domenica, mentre i centri commerciali chiusi è giusto che siano chiudi perché creano assembramento. Oppure modificano la norma nazionale. Io adesso chiamerò anche i quattro proprietari dei centri commerciali che hanno chiesto di aver approvato le licenze come centri commerciali se si può modificare anche la presentazione sotto forma di centri commerciali. Quindi stiamo cercando di far di tutto e di più per dare una mano ai commercianti e risolvere questo problema. E a proposito di negozi, questa è stata la tanto attesa settimana delle Black Friday, una tradizione nata in America per indicare il venerdì successivo al giorno del ringraziamento che solitamente si tiene il quarto giovedì di novembre. Un'occasione per le persone di approfittare degli sconti fatti dai negozi e anticipare anche i regali di Natale. La settimana del Black Friday potrebbe essere un'occasione, noi diamo quest'occasione ai nostri clienti per poter fare anche, visto che siamo vicini alle feste natalizie, anche qualche regalo, diciamo, forse in più quest'anno che comunque è stato un anno un po' difficile, un po' per tutti. Noi nel nostro Black Friday stiamo proponendo, diciamo, capi spalla, felpe, pantaloni tute, uomo-donna e siamo contenti che la gente comunque viene, frequenta il negozio e rimane contenta di quello che trova. Riguardo appunto alla gente che frequenta il negozio, la mia domanda sorge spontanea, come si comporta anche la gente in questo che hai definito anche tu, anno particolare, anche come è stato anche rietornare a parlare, chiacchierare anche con i clienti. Ma diciamo che sotto questo aspetto i nostri clienti, diciamo, hanno un comportamento adeguato alle regole, quindi noi comunque le facciamo rispettare come giusto che sia. E' certo che, diciamo, il rapporto con il cliente è un po' cambiato, nel senso, sempre, diciamo, noi abbiamo questo rapporto sempre d'amicizia, diciamo, con il cliente, però è chiaro che prima era un po' più, si dimostrava un po' di più. Adesso comunque abbiamo questa, diciamo, necessità di mantenere la distanza e quindi noi siamo comunque contenti dei nostri clienti, del nostro lavoro, speriamo sempre che le cose, diciamo, migliorino nel tempo e che ritorni tutto come prima. Un'ultimissima cosa, quando sono entrato ho visto di fianco alla cassettina con l'hashtag Io Supporto, questa bella iniziativa iniziata la settimana scorsa qua a Tre Commercianti di Vallefoglia e quindi immagino che anche voi aderite. Sì, sì, infatti anche noi come Freestyle aderiamo a questa iniziativa a Heistag Io Supporto, proprio per, appunto, supportare un po' tutti i commercianti, diciamo, della zona Vallefoglia, per poterci dare una mano, per poter tornare a tempi migliori e in attesa che tutto questo sia a posto. e infatti abbiamo, diciamo, è stato, chi ha organizzato questo ha pensato a dei buoni spesa da poter fare in qualsiasi negozio anche per altre attività oppure il buono per caffè, pizza, eccetera, eccetera, da consumare poi più avanti, insomma. e quindi ci saranno delle scadenze, c'è una scadenza per il buono, eccetera. Comunque mi sembra una bella iniziativa, spero che i clienti aderiscono a questa cosa. Già ho sentito dire da altri negozi che hanno già avuto la possibilità di dare questi buoni, e quindi siamo contenti, speriamo che le cose vadano bene. In bocca al lupo tutti. Abbiamo aderito al Black Friday, anche perché purtroppo in questa situazione le vendite sono un po' calate, diciamo un po', ma così non è. E allora abbiamo aderito al Black Friday, l'abbiamo fatto per tutta la settimana, dal 21 a domenica, che saremo aperti il pomeriggio, e proviamo domenica pomeriggio a fare tutto a metà prezzo. Vediamo se funziona qualcosa, sperando insomma di fare entrare il cliente, per fare qualche regalo di Natale, vediamo un po'. Già qualcuno ha già approfittato per fare qualche regalino, qualche insomma, però niente di importante, insomma. Cioè sono tre settimane che il lavoro è calato proprio, cioè proprio, non dico a terra, ma insomma, sì. Poi insomma noi siamo in un paesino dove la gente gira, dove insomma, diciamo che ancora un pochino si muove, ma penso che nelle grandi città sia molto peggio rispetto a noi. Un'ultimissima cosa, quello che riguarda anche un po' il periodo, appunto, come si comporta anche la gente che viene e frequenta il negozio, soprattutto vengono anche appunto fatte misure di sicurezza, ingressi quindi contingentati, non più tot persone alla volta. Esatto, sì. La gente comunque rispetta quello che sono le norme, aspetta fuori, ma devo dire la verità, in questo momento non è che ce ne sia bisogno esageratamente, insomma, non è che la gente si accalca fuori, o aspetta, cioè adesso noi qui abbiamo, cioè possiamo fare entrare due persone alla volta, cioè nel senso che siamo già due noi più due persone e aspetta fuori, oppure magari fuori è freddo, le faccio aspettare all'ingresso, però insomma devo dire che rispettano, sì sì, rispettano le norme, rispettano, ma non hanno neanche molta paura di poter entrare, di poter, però il rischio c'è, insomma, bisogna stare molto attenti, tenere la mascherina, stare a distanza, tutte le norme che vanno rispettate. E per quanto riguarda appunto gli acquisti di Natale, è stata anticipata la formula delle cash back anche alle mesi di dicembre. La misura prevede un rimborso fino a 150 euro, in questo fine 2020, per chi fa acquisti con carte di credito o bancomat in i negozi fisici. Il direttore di Confese Arcenti, Peser Urbino, approfondisce l'argomento e se lo spiega meglio nel prossimo servizio. Sì, una iniziativa che era prevista a regime per il 2021 e il 2022, che hanno deciso di anticipare a dicembre, fra l'altro sembra che l'iniziativa slitti all'8 di dicembre. Premetto che tutto quello che va ad incentivare il commercio, in questo caso gli acquisti online sono giustamente esclusi, quindi tutto quello che incentiva il commercio di vicinato è ben accetto. In questo caso sono dei rimborsi, cash back vuol dire rimborso, che vengono fatti nella misura del 10% sugli acquisti fatti con moneta elettronica presso i negozi. Nel periodo di dicembre il plafond è di 1.500 euro con almeno 10 operazioni effettuate e quindi rimborsi di 150 euro. Da questo lato positivo, dal lato negozi, imprese, noi abbiamo fatto osservazioni sin da subito, nel senso che a fronte dell'investimento che è stato previsto di 3 miliardi sul 2021 e 3 miliardi sul 2022, sul fronte invece oner e imprese l'investimento è minimo ridottissimo, si parla di 27 milioni per il 2021 e 50 milioni circa nel 2022. Ecco, quindi quello che chiediamo è che ci sia l'impegno da un lato è ben accetto il beneficio ma dall'altro bisogna che l'onere che le imprese hanno nell'utilizzo della moneta elettronica che sono oneri veri, costi veri, ci sia l'impegno da parte del governo ad intervenire ad ammortizzare, ad abbassare questi. Ecco, si parla intanto per quanto riguarda di sempre, l'ha detto lei, 1.500 euro in 10 operazioni, comunque una cifra anche alta che non tutte, magari anche le piccole famiglie può sostenere. Poi dal 2021 sarà una cosa sicuramente più fissa, parte appunto in via sperimentale e anche una cosa per cercare di eliminare o perlomeno ridurre al minimo il contante. Certo, questo è positivo in generale, la riduzione dell'uso del contante accompagnata, ripeto, da uno sgravio degli oneri che fanno capo ai negozi. La cifra di 1.500 euro prevista per dicembre non è di poco conto considerato anche i tempi e le difficoltà. E per invece gli anni a regime sono previsti dei plafond di 1.500 euro semestrali e quindi vuol dire che nell'arco di un anno si arriva a un rimborso massimo di 300 euro. Qui va scaricata una app sul sito istituzionale che servirà per registrare nell'app saranno caricate ovviamente le monete elettroniche dei consumatori e nel momento in cui si fa l'acquisto l'abbinamento con le monete elettroniche dei consumatori già caricate registrerà automaticamente il rimborso il rimborso che spetta. Ecco, in generale quello che noi abbiamo chiesto è, ripeto, un intervento sul piano dei costi delle imprese perché l'utilizzo della monete elettronica rappresenta ancora purtroppo un onere molto elevato per i negozi. Dall'altro c'è tutto un aspetto generale che riguarda la digitalizzazione delle piccole imprese e questo è tutto un capitolo aperto. Bisognerebbe approfittare di questa emergenza perché nel momento in cui si esce magari ci si possa attivare in un piano di grande portata che dia alle piccole imprese gli strumenti che in questo momento non hanno quindi anche qui bisognerebbe pensare un attimino con una prospettiva un po' più ampia. Ed in data 21 novembre anche a Vallefogli è stata celebrata la festa dell'albero. L'iniziativa promossa da Lega Ambiente anche se in tono minore rispetto agli scorsi anni è stata organizzata in collaborazione con gli istituti comprensivi scolastici Pian del Bruscolo e Giovanni Paolo II ed è interessato alle scuole primarie di Bottega e Montecchio. Gli alunni delle scuole interessate Carlo Alberto dalla Chiesa Giovanni Paolo II e Federico da Montefeltro hanno piantato un olivo nelle giardine del rispettivo plesso scolastico in segno di amore e di attenzione per la natura. Lo scopo principale dell'iniziativa è stato infatti quello di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto e alla tutela degli alberi che sono indispensabili per assorbire anidride carbonica e rilasciare ossigeno per il miglioramento della qualità dell'aria. L'amministrazione comunale di Vallefoglia ha ritenuto di grande importanza l'organizzazione di questa iniziativa in quanto coinvolge e sensibilizza i ragazzi alla salvaguarda della natura e dell'ambiente temi fondamentali per il futuro del pianeta. Ed in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne tenutosi lo scorso 25 novembre il Comune di Montellabate è inaugurato la prima panchina rossa. Un simbolo riconosciuto per dire no ad ogni forma di violenza. Noi ne abbiamo parlato con il sindaco delle Comune di Montellabate Cinzia Ferri che ha sollecitato la sua grande riflessione su questo tema. Sì, abbiamo preso questa decisione insieme all'assessore alle pari opportunità Ramona Penserini perché il contrasto alla violenza non si deve dimostrare solo il 25 di novembre ma tutti i giorni e quindi proprio per questo questo colore a questa panchina perché ogni cittadino che passa qua davanti deve combattere in ogni modo ogni tipo di violenza soprattutto quella sulle donne tenuto conto gli ultimi dati che abbiamo in possesso dove una donna viene uccisa ogni tre giorni e abbiamo dei dati allarmanti anche derivanti da questa emergenza sanitaria perché sicuramente ha costretto la convivenza della vittima con il proprio guzzino e questo ha amplificato le violenze domestiche questa panchina è la prima di quella che si presume una lunga serie in futuro sì la nostra idea è quella che ogni anno ne verrà dipinta pitturata di colore rosso una in ogni frazione fino ad arrivare a averne più di più quasi un percorso dedicato alla donna alla violenza contro le donne è anche un simbolo che deve rimanere fisso appunto in città per dare testimonianza di questo valore sì per noi tra l'altro che siamo su una giunta di maggioranza di donne è un simbolo forte ma comunque quello che volevamo far passare come messaggio era un forte messaggio contro la violenza contro ogni forma di violenza e di discriminazione soprattutto nei confronti delle donne che sono quelle che maggiormente ne soffrono e purtroppo abbiamo questi dati in possesso che ci dicono che non denunciano mentre altre forme di violenza vengono denunciate quella soprattutto domestica invece rimane all'interno delle mura domestiche come se ci fosse una vergogna nel denunciare questa cosa noi con questo piccolo simbolo vogliamo dimostrare alla cittadinanza e alle persone che invece subiscono questa violenza perché purtroppo ci sono anche nel nostro comune che siamo vicini siamo pronti ad ascoltare accompagnarli in un percorso di rinascita perché non dobbiamo abbassare la testa e subire queste cose un'ultimissima cosa è quella che riguarda comunque il momento in cui ci troviamo ovvero quello della pandemia del covid-19 come sta andando la situazione qua a Montelabate anche non solo dal punto di vista dei contagi ma anche delle scuole allora devo dire che noi siamo stati molto colpiti nel mese di marzo e aprile siamo stati uno dei comuni più colpiti nella regione Marche adesso i dati sono un po' più rassicuranti è chiaro che noi avendo una zona industriale importante per la provincia di Pieser Urbino dove raccogliamo tante persone che provengono anche da altri comuni e il fatto di potersi contagiare è molto più facile rispetto ad altre realtà devo dire che i cittadini collaborano che comunque cercano di evitare spostamenti inutili è chiaro che noi si troviamo in un comune dove in questo momento abbiamo pochi centri commerciali pochi supermercati per cui siamo obbligati a migrare nel comune vicino soprattutto graviamo su quello di Vallefoglia però per il resto devo dire che anche a livello scolastico gli genitori collaborano e i bambini sono fantastici e quindi a oggi mi sento di dire che i dati sono rassicuranti però non dobbiamo abbassare la guardia perché altrimenti ci ritroviamo come già successo a marzo-aprile e non vorrei mai perché è stato veramente devastante a livello psicologico il periodo pandemico in cui ci troviamo ha fatto sì che anche l'edizione 2020 di Betlemme a Talacchio sia stata rinviata all'anno prossimo la motivazione principale del rinvio riguarda il fatto che non solo si potrebbero creare assembramenti per riuscire a vedere l'intera opera ma anche la preparazione comporta che i tanti parrocchiani lavorino spesso insieme non tutto però sarà rimandato il 2021 infatti è stato confermato che verrà realizzata una piccola postazione che rappresenta la grotta con la natività come segno simbolico del santo natale e il comune di volontariato del territorio per consegnare degli attestati all'emerito per il grande impegno profuso in questo periodo di pandemia in prima fila all'incontro con le associazioni c'è stato il sindaco del comune di Vallefoglia a Palmirocchieli e l'assessore Daniela Ciaroni vediamo il servizio questa consegna di attestati di gratitudine di ringraziamento che abbiamo fatto io e l'assessore alle politiche sociali è un segno dell'impegno davvero straordinario che tutte le associazioni di volontariato alla Croce Rossa alla Proloco a tutti quelli della protezione civile che hanno dato anche un esempio di comportamento di correttezza quindi siamo particolarmente contenti speriamo se tutti diamo un buon esempio di non avere altre necessità e comunque siamo orgogliosi di avere tanto volontariato che aiuta a dare un po' d'esempio anche ai comuni confinanti perché il volontariato ce l'hanno anche gli altri tutti insieme possiamo uscire quanto prima da questa vicenda del Covid speriamo senza ulteriori danni perché abbiamo avuto purtroppo e noi dei danni piuttosto importanti sì confermo chiaramente è un atto simbolico però a testimoniare la grande gratitudine da parte della nostra amministrazione per tutto il mondo del volontariato per le motivazioni che ha dato il sindaco perché è attivo presente è serio è responsabile e ci ha veramente stato di grande aiuto nei momenti più tragici diciamo della passata l'emergenza chiaramente nessuno di noi come dicevamo si augura che queste cose vengano ripetute però sappiamo che possiamo contare comunque sulla loro efficienza e sulla loro disponibilità e questo ci fa stare comunque più sereni e adesso concludiamo parlando di sport nelle campionate di serie 2 di pallavolo femminile nell'undicesima giornata la Megabox Vallefoglia ha trionfato in trasferta per 3-7-0 contro l'Ipag e Montecchio un successo esterno importante per la squadra allenata da coach Fabio Bonafede che conquista tre punti chiave in ottica campionato ora infatti la Megabox sa la quota 20 punti in classifica ed è sempre al secondo posto delle Girone Est a sulle due lunghezze dalla capolista Cutrofiano nel prossimo turno sarà proprio la sfida alle vertice contro la formazione pugliese ad andare in scena alle palla Dionisi di Montecchio e termina qua questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine io vi ringrazio come sempre per essere stati in nostra compagnia qua su Rosini TV canale 633 digitale terrestre vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo il 4 di dicembre alle ore 19 e vi auguro una buona serata Grazie a tutti